Istituzioni, chiesa, mondo dello sport e della cultura ha coinvolto le categorie più diverse l'edizione 2015 del calendario di solidarietà realizzato dall'ANEF per i bambini disabili. 12 scatti contro l'indifferenza, un progetto che l'associazione a Canisciuno e Fesso guidata da Carmen Manfellotto promuove dal 2011 per offrire terapie domiciliari gratuite ai bambini napoletani che non possono permettersele. Le foto sono scattate dal fotoreporter Gianni Riccio e quest'anno vedono protagonisti insieme ai ragazzi il sindaco Luigi De Magistris, il cardinale Crescenzio Sepe, lo scultore Lello Esposito e i campioni sportivi dell'associazione Mille Coulour, Pino Porzio, Imma Cerasuolo e Diego Chiuzzi. Qualcosa che ci ricorda 365 giorni all'anno, che ci sono le differenze, che queste differenze possono essere delle reali risorse se tutti insieme ci mettiamo un po' del nostro e quindi non poteva che essere qui presente l'amministrazione che tra l'altro crede fermamente in questo progetto. Il calendario davvero è una grande opportunità per ricordarci che abbiamo un tempo che è prezioso ed è prezioso per non vanificare la nostra esistenza ed è prezioso per ricordare che gli altri hanno diritto ad esistere. I fondi raccolti dal progetto serviranno a finanziare terapie di logopedia, psicomotricità e riabilitazione neuromotoria e sempre nel segno della solidarietà venerdì 5 dicembre alle 21 al Teatro Posillipo è in programma una serata di beneficenza con i protagonisti del calendario ed i sostenitori dell'associazione. La mia associazione si occupa di terapie domiciliari per i bambini disabili perché negli anni i tetti economici per trattare la disabilità sono sempre ridotti e quindi la mia associazione nasce proprio per andare a supporto di famiglie bisognose. Il sito è www.anefitalia.it e su di esso trovate una trasparenza bancaria perché tutto quello che viene donato è trasparente. Speriamo anche quest'anno di poter aiutare quanto più bambini è possibile. Grazie a tutti.